Noi siamo compatte, siamo uniti, come lo siamo sempre stati, come lo dobbiamo essere, e sempre, ok? Associazione mafiosa, estorsioni, usura, trasferimento fraudolento di valori e narcotraffico sono solo alcune delle accuse che hanno portato all'arresto di 31 persone la mattina del 18 giugno. La Guardia di Finanza di Catania ha affermato così il clan mafioso Cintorino, legato alla Cusca Cappello e attivo anche nel Messinese tra Giardini Naxos e Taormina. In tutto una società di noleggio di acquascuter, un bar, un lido balneare di Giardini Naxos è una ditta attiva nel settore dei lavori edili. Gli interessi della criminalità organizzata non risparmiano neanche il turismo, divenuto con le sue escursioni e attività sempre più redditizie per le cosche.